ciao ragazzi e ragazze benvenuti nel mio canale vi voglio ringraziare per le iscrizioni che ho avuto ultimamente che sono davvero tante sono contenta e sono felicissima e oggi volevo fare questo video perché mi è arrivato questo pacco che io sinceramente pensavo fosse una cosa e avevo già registrato per quella cosa che credevo che fosse invece non era quella perché mi deve ancora arrivare però poi lo rifarò mi è arrivato questo pacco da aliex express che non mi ricordavo più di averlo ordinato l'ho ordinato circa a ottobre ma non mi ricordavo mica più l'ho aperto e che cosa c'è dentro dentro c'è questo attrezzino per tagliare e fare le patate tipo le chips le chips con le sottili infatti in questo modo non so cosa servono i cuori non ho idea veramente non ho idea che cosa servono questi cuori non so come si usa lo devo capire ah forse vanno messe tutte non lo so ci devo provare provare e vi farò vedere come funziona leggerò bene l'istruzione non so come non so come si usa si probabilmente come l'immagine vanno tagliate le patate e vanno messe così nel si si vanno messe così e vanno cotte nel microonte questo e vengono come le patatine tipo patatine farò un video poi per come vengono se vengono come vengono anzi voglio provare si voglio provare vedere come 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 risultano non so come si usa cosa servono questi cuori in mezzo qualcuno sa cosa servono questi cuori in mezzo boh non lo so comunque iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti campanella notifica così siete aggiornati sui nuovi video io farò altrettanto con voi perché mi piace seguirvi con questo vi lascio vi saluto e vado a provare le patate ciao 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 ciao